buongiorno ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi il tempo sta cambiando il cielo sereno sta lasciando spazio ai nuvoloni qualche cosa vedremo anche le temperature stanno un po calando comunque la primavera ancora presente e quindi vedremo come poi il weekend verrà insomma condizionato dal tempo speriamo che il tempo ritorni buono anche perché siamo vicino al 25 aprile quando poi ci sarà un weekend particolarmente lungo ma ovviamente prima di iniziare la lettura dei giornali questa mattina diamo sempre un'occhiata all'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi ecco la grafica ebbene è san roberto di la chaise die un santo francese che visse nell'undicesimo secolo siamo poco dopo l'anno 1000 roberto nacque in mezzo a un bosco la mamma apparteneva a una famiglia nobile una nobile donna di turlandia fattosi sacerdote per vocazione quindi non era una così una condizione obbligata roberto si distinse per la sua carità verso gli infermi per i quali aprì un ospizio fondò poi alcuni alcune abbazie alcuni monasteri soprattutto fu famosa l'abbazia di la chaise de die ovvero la casa di dio che divenne una delle più note abbazie della francia insieme a quella di chartres e a quella di di cluny che poi irradiò vera il monachesimo su tutta europa ebbene lui con la sua abbazia di la chaise die assicurò la gestione della fede addirittura a 50 paesi vicini quindi anche lui fu impegnato molto nella sua missione di divulgare la parola di dio con lui poi si unirono 300 monaci quindi veramente una comunità ecclesiale di grande di grande importanza nella francia in quel periodo e allora passiamo a vedere un attimo le condizioni del tempo dopo aver festeggiato san roberto e vediamo come abbiamo detto che il tempo sta cambiando sta cambiando perché nella regione marche vediamo che le nubi così cedono anzi il sole cede il posto alle nubi giornata instabile via via più fredda con rovesci e locali temporali questo dicono le previsioni neve sui rilievi in calo fino a 1100 1300 metri entro la sera i venti sulle coste da nord nord ovest nel entroterra da nord il mare il mare mosso e le temperature come vedete sono calate 9 9 la minima 18 gradi la massima questo per quanto riguarda la situazione del tempo e allora apriamo i giornali partendo oggi dal resto del carlino e vediamo come si parli di quell'incontro che si è svolto l'altra sera nella sala della comunità delle vallato la nuova sala della comunità gestita dall'associazione porte aperte a condurre il dibattito tra i tre candidati sindaco Gabriele Darbetti e il presidente dell'associazione e per la prima volta si sono confrontati i tre candidati sindaco quello più nuovo era quello uscito dal ballottaggio del centro-sinistra che si era svolto la domenica precedente il giorno prima ovvero Cristian Fanesi Cristian Fanesi e alla ribalta insieme a Stefano Marchigiani candidato dei progressisti e a Lucas Filippi candidato della del centro-destra per la prima volta i tre tutti insieme condurranno poi ulteriori incontri saranno protagonisti di tanti altri dibattiti da qui all'otto e il nove giugno ci sono ancora due mesi di campagna elettorale vediamo il titolo che fa il resto del carlino campo largo si gioca al gatto e al topo alludendo alla possibile intesa tra il centro-sinistra e i progressisti progressisti in cui militano anche i 5 stelle sono gli interlocutori possibili più più possibili così possiamo dire anche se affano ancora va dura per loro e per il centro-sinistra appunto della coalizione di governo della città ma adesso Sir Filippi fa più paura Sir Filippi come candidato del centro-destra ha una coalizione tutta coesa nei suoi confronti mentre non si può dire che questo accada veramente all'interno appunto del centro-sinistra per quanto accade per quanto si è visto anche nelle elezioni del balottaggio ma vedremo come andrà a finire vediamo anche i sottotitoli anche tra i progressisti affiorano i pontieri afferma il carlino l'obiettivo resta non far prevalere la destra al primo turno intanto su eventuali appoggi fanesi taglia corto odio l'arroganza marchegiani tanto tanto vinco io insomma sono delle dichiarazioni così un po' provocatorie un po' altezzose però insomma ognuno ha fiducia nelle sue possibilità e soprattutto conta sull'aiuto del elettorato e qual è l'offerta che i progressisti fanno al centro-sinistra è quello che Fanesi faccia un passo indietro e tutti concorrano alla elezione di Stefano Marchegiani al momento questo ancora non è affatto condiviso quindi le cose rimangono così come sono comunque nell'incontro al Vallato si è parlato di temi molto molto alti non si è entrato nei particolari dei problemi della città si è parlato di condividere le scelte con i cittadini si è parlato di sincerità si è parlato insomma di questi valori che dovrebbero caratterizzare la politica non per nulla l'incontro è stato aperto anche con una dichiarazione importante del parroco del Vallato Don Francesco Pierpaoli che ha letto un brano di Don Primo Mazzolari di cui in questo periodo ricorre l'anniversario della morte non è una bella immagine quella di due figure della sinistra che si contrastano tra loro è stato un po' la considerazione del pubblico alludendo appunto al dibattito tra Marchegiani e Fanesi che si contrastano tra loro invece di così combattere il centro-destra questo è quanto afferma il Carlino lasciamo alla politica no anzi invece di lasciare la politica voglio vedere come il Corriere Adriatico tratta lo stesso tema che viene posto in apertura eccolo qua l'articolo sulla pagina di Fano i tre candidati sindaco a confronto il tentativo è marcare le differenze cercare di innanzitutto presentare ognuno quelle che sono le sue caratteristiche le sue idee della politica e marcare le differenze per far capire ai lettori quelle che sono le caratteristiche dei progressisti da una parte del centro-sinistra dall'altro del centro-destra e poi dall'altro lato ancora per Ser Filippi è l'ascolto per Fanesi le relazioni Marchegiani non ha dubbi sul valore della cultura quindi per Ser Filippi l'ascolto dei cittadini per poi esaminare i dati che provengono dal territorio e quindi fare le scelte è una prelogativa essenziale per Fanesi le relazioni tra i quartieri le ha poste in evidenza anche sul piano regolatore proponendogli hub i centri di quartiere strutture che possono così influire sulle relazioni dei residenti Marchegiani invece la cultura la cultura è la prelogativa delle scelte delle scelte perché non si tratta di una cultura astratto ma è con la cultura che si fanno le scelte per rispondere poi alle esigenze dei cittadini e allora passiamo agli altri argomenti passa un nuovo yacht sulle strade di Fano nuova sfilata in città ecco qua il titolo ma stavolta è una passeggiata si tratta di uno yacht più piccolo rispetto ai grandi colossi che hanno sfilato recentemente per le vie di Fano non è un semplice scafo vuoto di solito il completamento di queste grandi imbarcazioni viene fatto sul porto di Fano ma questa volta è uno yacht completo pronto per essere consegnato all'armatore quello che solcherà le strade nel centro cittadino nel pomeriggio di oggi è uno spettacolo fornito da Azimut Magellano 25 ancora una volta a gestire il trasporto eccezionale sarà la Sorcinelli Autogru guidata da Michele Sorcinelli l'uomo che sposta i giganti del mare e non è facile perché poi le vie di Fano sono alquanto strette in modo particolare in alcuni punti come la curva tra Viale e tra Viale insomma lì dove c'è la bella Napoli ecco dove comincia Viale Battisti e Via Cavallotti ecco l'incrocio tra Via Cavallotti e Viale Battisti un punto veramente critico per il passaggio dei giganti del mare e parliamo anche dell'ex convinto dell'ex convinto Vittoria con Vittoria Colonna residenze anziane all'ex convinto ma sul Vittoria Vittoria Colonna solo silenzio ebbene a riaccendere i fari sulla destinazione di questo grande complesso è il sociologo fanese Maurizio Tommassini un argomento che ogni tanto sale alla ribalta ma questo complesso rimane desolatamente ancora isolato lo si è messo in sicurezza da un po' di tempo non si parla più di invasione di estrani di danni per quanto riguarda poi quello che si mette a suo quadro nell'interno però anche se lo stabile è stato messo in sicurezza ancora la sua destinazione è molto lontana eppure sarebbe una buona soluzione per ospitare gli inziani gli anziani della nostra città è un immobile che potrebbe svolgere una grande funzione di fronte all'invecchiamento della popolazione una destinazione che viene caldeggiata appunto da Tommassini Tommassini anche un dirigente apicale dell'ACLI della nostra provincia ed ora parliamo di un nuovo controllo che le forze dell'ordine hanno fatto nei punti nevralgici della città di Fano in modo particolare nel centro storico dove solitamente si verificano episodi di cronaca risse episodi di degrado ci sono poi degli atti vandalici insomma bisogna tenere sotto controllo questi punti particolari e sono quelli di piazza Ammiani quelli del Pincio insomma dove si e quelli della Rocca Malatestiana dove solitamente si concentrano bande di ragazzini un po' scavestri come si dice a Fano però questa volta non ci sono stati i provvedimenti che sono stati realizzati insomma la situazione viene mantenuta sotto controllo un appello poi perché la situazione continui a essere maggiormente posta l'attenzione degli inquirenti è stato lanciato da Barbara Marcolini che è presidente della Confcommercio è necessario ha detto tenere alta l'attenzione su una questione così delicata Fano è la terza città delle Marche e sono fondamentali per la sicurezza del centro storico e dei quartieri dei cittadini delle attività commerciali soprattutto l'arrivo di un nuovo contingente di una nuova possibilità di incrementare l'organico delle forze dell'ordine quello che auspica Barbara Marcolini e veniamo una bella notizia la mostra del Perugino prorogata fino al mese di settembre quindi tutta l'estate sarà un punto d'attrazione per tanti turisti che giungeranno a Fano proprio per vederla e in mostra un solo quadro ma in quel quadro c'è tanto tanto del rinascimento italiano il rapporto tra Perugino e Raffaello la bellezza estetica del Perugino la funzione della pala durante la sua permanenza a Fano dopo che è stata commissionata dai frati francescani di San Lazzaro il trasferimento a Santa Maria Nuova e poi anche un altro quadro importante che si può ammirare nella chiesa di Santa Maria Nuova dove dopo settembre verrà riportato il quadro della pala durante e quello dell'annunciazione dello stesso Perugino e poi vediamo un altro articolo che riguarda questa volta le terre roveresche dove l'amministrazione comunale ha praticato un maxisconto all'asilo nido per i nuovi nati ebbene i nuovi nati nell'anno educativo del 2022 avranno una riduzione del 40% sulla retta dell'asilo nido cioè i bambini venuti al mondo dopo il 1 gennaio 2022 potranno beneficiare di questo sconto quindi un aiuto in più ai genitori specialmente coloro che lavorano e hanno bisogno di questa struttura per poter continuare a così a produrre il reddito familiare vediamo la pagina di Urvino si parla di politica è stata presentata la lista del Partito Democratico che fa riferimento a Federico Scaramucci come candidato sindaco il Partito Democratico svela i suoi candidati noi rappresentiamo hanno detto il futuro della città la lista a sostegno di Federico Scaramucci presenta il programma Giorgio Ubaldi il piano regolatore va rifatto subito ma non solo il piano regolatore tra le priorità programmatiche di questa nuova lista vediamo le politiche verdi al passo con i tempi la città deve diventare smart ovvero intelligente è stato detto e le strutture dedicate agli anziani vanno implementate idem per il rapporto con il territorio abbiamo invitato i sindaci di Urbania e Ferminiano hanno detto perché ci sono tempi da condividere con loro penso ha detto Scaramucci alla Fano Grosseto e all'ospedale e alle scuole insomma sono problemi e sono situazioni strutture che vanno condivise con il territorio e non solo appunto finalizzate alla città di Urbino vediamo anche qualche notizia che riguarda Pesaro dove la sanità dopo le dimissioni della Storti e di Berselli stanno tenendo veramente banco sanità nel caos ci sono dichiarazioni del sindaco Matteo Ricci via l'assessore si parla ovviamente di Salta Martini Biancani il consigliere regionale candidato sindaco per il partito democratico di Pesaro dice bisogna fare subito le nomine dei sostituti perché non si può lasciare la sanità provinciale allo sfascio così come è stata ridotta e dopo l'uscita di scena del direttore generale Storti e del numero 2 Berselli la politica si scatena insorge anche la consigliera regionale Vitri e uno sfacelo ha dichiarato conti sfumano tanti progetti veramente c'è tutto il centro-sinistra all'attacco della regione Marche per la situazione così veramente con un vuoto con il quale è stata lasciata la sanità pesarese la sanità affanese la sanità del territorio della provincia e qui ovviamente le reazioni diciamo anche in campagna elettorale si calza veramente l'accento su questa situazione mentre chi ha parcheggiato la propria autovettura nel parcheggio vicino al mercato ebbene ha trovato una brutta sorpresa al suo ritorno perché i vigili urbani hanno elevato un centinaio pensate un centinaio di multe per divieto di sosta non avevano esposto la segnalazione del parcheggio perché era a disco orario secondo le nuove regole e ovviamente c'è stata una sollevazione generale di tutti gli automobilisti che o non lo sapevano o non si sono accorti della nuova normativa non hanno pensato di se stimare insomma la segnalazione dell'orario con cui avevano parcheggiato la propria autovettura un nuovo incidente stradale purtroppo mortale si è verificato nella giornata di ieri a Cappone di Vallefoglia uno scontro tra un'auto e un camion muore la professoressa Diana Sorini aveva 65 anni era di Urbino docente al liceo Fellini di Recione stava tornando a casa ma ha perso il controllo della propria autovettura si tratta di una Opel che ha invaso la corsia opposta mentre in quel momento sopraggiungeva un mezzo pesante lo scontro è stato inevitabile lo stesso guidatore del mezzo pesante del camion è rimasto scioccato ha detto ho fatto di tutto per evitare quella macchina ma non ci sono riuscito drammatica la testimonianza dei residenti e guardate come è stata ridotta la carcassa dell'autovettura ridotta a un cumulo veramente di lamiere vediamo ancora un altro lutto lutto per il ciclismo malore mentre pedala addio a Vincenzo Mancini Vincenzo Mancini ex agonista e grande appassionato delle due ruote nonché animatore del gruppo amatoriale ciclistico Compact di Pesaro avrebbe compiuto 75 anni il prossimo agosto e se ne è andato alcuni giorni fa mentre mentre stava accompagnando il suo gruppo in uno degli itinerari da lui stesso ideati nel territorio pesarese insomma un altro un altro lutto e poi e poi e poi lasciamo il resto del carlino andiamo un'occhiata invece al Corriere Adriatico abbiamo visto l'apertura dedicata all'incontro tra i tre candidati sindaco che si è svolto al Vallato vediamo qui il titolo con la foto appunto del palco poi c'era veramente una platea gremitissima di persone è stato forse uno degli incontri più affollati che si sono svolti in questo periodo di campagna elettorale nella città di Fano veramente la risposta del pubblico è stata importante e decisiva però vediamo anche come il Consiglio Comunale che è ripreso nella giornata di ieri in cui appunto è ripresa la discussione delle contradduzioni alle osservazioni presentate al piano regolatore c'è anche unito l'approvazione del bilancio consuntivo del 2023 della Fondazione Teatro della Fortuna la Fondazione Teatro qualità e piccolo attivo si chiude il 2023 con un piccolo attivo di circa 1.500 euro ma però più importante il consuntivo delle opere fatte una stagione una stagione teatrale veramente decisiva importante con un aumento del 30% degli abbonamenti rispetto al periodo del Covid sette le opere di prosa che sono state rappresentate per tre giorni una nutrita stagione sinfonica opere per i bambini e soprattutto la lirica con le due opere che hanno ottenuto anche un grande consenso da parte dei giovani tutto in questo articolo che riguarda appunto il consuntivo che verrà approvato dal Consiglio Comunale e c'è qua anche un provvedimento importante per quanto riguarda la situazione dei parcheggi sul lungomare ebbene lì le aree scasseggiano non si possono fare miracoli per fare nuovi parcheggi se non ci sono gli spazi a disposizione allora l'amministrazione comunale cosa ha fatto in questo momento sta facendo un sondaggio tra i privati che vogliono mettere a disposizione del pubblico per i parcheggi anche a pagamento le loro aree di pertinenza e quindi c'è una possibilità di adibire terreni privati a parcheggio questo per implementare gli spazi a disposizione perché altrimenti insomma ricominciano le proteste e tutte le difficoltà che si sono riscontrate anche in passato casette del duce i soldi ci sono ma la riqualificazione è a rilento e in questo articolo c'è un input all'amministrazione comunale che viene evidenziato dai volontari dell'ecomuseo di Metauriglia perché si accelerino i tempi per l'acquisto di una casetta che rimanga emblematica di tutte le casette del duce circa un centinaio che si dilungano sul rettilineo di Metauriglia da Ponte Metauro verso sud un centinaio di casette che riguardano una bonifica fatta a suo tempo dal duce da Mussolini e bisogna accelerare i tempi perché altrimenti il proprietario invece di venderla al comune la vende dall'altra parte e quindi il comune perde una occasione e siamo in conclusione della nostra rassegna stampa vi segnalo quest'articolo che proviene da San Lorenzo in campo dove si evidenzia il valore della coltivazione del miele miele di coriandolo e il migliore delle marche è il titolo e poi ancora la pagina di Senigaglia insulti e aggressioni verbali ai vigili difendiamoli con il body cam e con lo spray e questa soluzione è controversa perché si teme che poi il body cam di cui verrebbero dotati i vigili potrebbe rivolgersi anche contro le stesse pattuglie per osservarle vedere come si comportano e vedere se ci sono cose che non vanno e insomma qui c'è un dibattito è un contrasto ebbene era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta chiudiamo i giornali e vi do appuntamento come sempre alle 7 di domani mattina grazie per l'ascolto e a risentirci